Nuovi dati e manutenzione ordinaria per la sentinella delle acque a largo delle 5 terre. Sono state portate a termine con successo le operazioni di recupero del Levante Canyon Mooring, la stazione profonda del Laboratorio Mare, progetto coordinato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine realizzato in collaborazione con gli enti di ricerca CNR, ISMAR, Enea, INGV, Istituto Idrografico della Marina. Si tratta di un sistema di monitoraggio multidisciplinare offshore per l'acquisizione di dati geofisici ed idroocenografici del Mar Ligure posizionato a largo della costa delle 5 terre ad una profondità di circa 600 metri in corrispondenza di un canyon sottomarino. Sono servite circa 24 ore di lavoro ai ricercatori che a bordo della nave oceanografica dalla porta messa a disposizione dal CNR ISMAR hanno acquisito le rilevazioni e verificato lo stato dei dispositivi in modo da assicurarne il corretto funzionamento. Si è trattata della quarta operazione di questo genere a partire da settembre 2019 in cui il progetto è partito, sempre condotte su questa unità eccezione fatta per quelle di giugno 2022 a bordo della nave Leonardo della Marina Militare. Ma quali sono le peculiarità del Canyon Mooring? La catena è strumentata e collocata in un ambiente singolare in cui sono stati individuati abitati a coralli bianchi. Due profilatori misurano la corrente su tutta la colonna d'acqua. Inoltre tre sonde CTD a distanza di circa 300 metri l'una dall'altra rilevano la temperatura e la conducibilità dell'acqua da cui si ricavano le derivate su salinità, densità ed altri parametri, spiegano i ricercatori coinvolti nel progetto. Servire ancora qualche anno per un'analisi delle tendenze, per uno studio climatico di cui queste operazioni costituiscono un primo passo, ma da questa prima tranche di rilevazioni non si evidenziano valori eccezionali, piuttosto un andamento costante dei parametri. I dati ottenuti, continua il team di ricercatori, che hanno passato il quality control, sono ora resi disponibili alla comunità. Una preziosa fonte di informazioni per il Mar Ligure orientale ancora poco studiato da questo punto di vista. In quest'ultima messa a mare del Mooring inoltre è stata aggiunta una struttura contenente granuli commerciali di plastiche bioplastiche allo scopo di studiarne i processi di invecchiamento nelle acque profonde. Uno studio analogo è stato condotto nella stazione Costiera, secondo polo del Lab Mare, collocato a 10 metri di profondità nella baia di Santa Teresa. In occasione del prossimo recupero, previsto a breve, i ricercatori porteranno a terra tutta la catena strumentata al fine di effettuare una manutenzione più approfondita che includerà la calibrazione degli strumenti.